Non mi respira Sei contento? Tanto! Tanto che t'ha andata a prendere la stessa Ecco Si sorridono di Simone, dicono tutto signore, è vero Mi diceva, Simone ha 20 anni e la sua disabilità è peggiorata negli ultimi 5 anni e lei si sente una madre abbandonata Sì, lo Stato italiano, a differenza di tutti gli altri Stati europei, abbandona con disabilità le proprie famiglie La signora percepisce intorno ai 1000 euro che sono insufficati al Comune di Roma, che sono insufficienti Arrivano, mi raccontava, a intermittenza Il Comune li dà quando se li ricorda Passano anche dei mesi Abbiamo diffidato il Comune di Roma perché il Comune dovrebbe darci questi soldi che ci servono per retribuire gli assistenti Quanto spende al mese per Simone? Allora, solo di assistenza io arrivo a spendere anche 2500 euro al mese Quando lui si è aggravato ho dovuto, sono stata costretta a licenziarmi Questo l'ha voluto il Vangelo, l'ha voluto Simone? E da un po' di tempo lui ha deciso che deve dire le preghierine a tutte le persone che conosce Per cui fa l'angelo custode, personalmente sono atea Non è una cosa che è nata da me